Nella splendida cornice della Rocca Malatistiana si terrà domenica 19 luglio alle ore 21 e 15 il progetto Arte Contemporanea Fano che ha lo scopo di far conoscere l'arte divulgando l'interesse e promuovere l'approfondimento. Abbiamo voluto intraprendere questo progetto Arte Contemporanea Fano appunto per far conoscere l'arte contemporanea, suscitare perlomeno curiosità nei confronti dell'arte contemporanea in modo che portasse questa curiosità ad un approfondimento nel campo. Al convegno prenderanno parte due importanti esperti italiani di arte contemporanea. Inizierà proprio il professor Senaldi con una presentazione che avrà appunto come parole chiave bellezza, arte e contemporaneo proprio per riuscire a spiegare il valore del significante, la relazione con il suo significato, quindi il segno dell'arte contemporanea come esperienza estetica. Il professor Beatrice ci racconterà i formidabili anni Ottanta che di fatto rappresentano i più vicini, i più ormai riconoscibili anni in cui vi è un'esperienza esplosiva diremo. È importante perché l'arte esce in maniera dichiarata da quelli che sono gli spazi a lei dedicati e diventa un'arte che si indossa, diventa un'arte che inizia ad appartenere alle città. Il progetto promosso dall'Accademia Vitruvio Fanum con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Galleria Arte Enrico Astuni di Bologna, fondamentale per la realizzazione del progetto, vanta anche la collaborazione dell'Accademia degli Scomposti e quest'anno anche del Rotary Club di Fano. Siamo naturalmente molto attenti al campo anche della cultura e per la prima volta collaboriamo a un'attività di carattere relativo all'arte contemporanea, quindi un tema estremamente difficile, con un tema particolarmente bello e affascinante come la bellezza e siamo molto molto felici di questo. L'iniziativa verrà svolta a ingresso libero fino a esaurimento posti. Grazie. 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 Grazie.